Vi auguro una dolce notte. Il messaggio di questa sera è credi in ciò che crei. Confida nel potere della creatività di Dio che si manifesta attraverso di te. Questa carta significa che hai talento e che sei anche molto sensibile. Le due cose vanno di pari passo perché le emozioni forti alimentano la creatività. La tua sensibilità però possiede anche un lato negativo. A volte ti senti in modo diverso dalle persone che appaiono sicure di sé e pensi che le tue creazioni non saranno accolte con favore dal pubblico. Ciò che ti preoccupa di più è non riuscire a mantenerti con il tuo lavoro creativo. Questa carta vuole rassicurarti che ci saranno persone che apprezzano ciò che fai e ti sosterranno economicamente. Riversa le energie d'amore nelle tue creazioni e vedrai che attrarrà a sé tutte le persone che sapranno ottenere benefici dalla tua opera. Questo è il messaggio per augurarvi una dolce notte.